ciao a tutti ben ritrovati da tenore informatico nuovo video dedicato alla mitica panda seconda serie nome in codice panda 169 nel video potete già notare che ho smontato il porta oggetti perché vi voglio mostrare come smontare l'airbag l'atto passeggero veramente semplice guardatevi il mio video precedente su come si smonta il porta oggetti perché solo in questo modo si può togliere l'airbag non perdiamo tempo e procediamo subito andiamo bene finalmente ci siamo e si può così capire dove sono situate le tre viti torx che tengono bloccato l'airbag vi consiglio prima di smontarlo di disinserire il cavo della batteria rosso positivo in modo da non avere problemi riguardatevi il mio video precedente su come smontare il vano porta oggetti dove anche collegato il connettore modulo chiave per azionare o disattivare il modulo airbag lato passeggero bene possiamo procedere innanzitutto nella parte sotto possiamo vedere le tre viti torx che sono una qui al centro un'altra qui nella parte lato destro e sinistro per un totale di tre viti la torx che dovete utilizzare è una torx da 35 queste viti sono a pressione e se provate a svitarle con un semplice cacciavite torx vi dico che non ci riuscite a meno che non avete una mano abbastanza forte utilizzate magari un utensile torx come questo o chiave a cricchetto procediamo iniziamo proprio dalla vite centrale io li avevo già svitati in precedenza però vi assicuro che sono belle strette procediamo poi con la vite lato destro e per concludere lato sinistro nel prossimo passaggio andiamo ad estrarre l'airbag infilate le dita nella parte estrada sotto e sopra dell'airbag e poi lo dovete estrarre come se fosse un cassetto per concludere troviamo il connettore al lato dell'airbag il lato destro per estrarre il connettore basterà a premere ai lati una leggera pressione e poi si può sfilare il connettore una volta che il connettore è stato sconnesso dall'airbag lo possiamo rimuovere completamente sostituirlo con uno nuovo ecco qua allora ragazzi prima di procedere una cosa importante se vi capita ed eccola qua questa è la spia dell'airbag il lato passeggero una spia arancione che quando azionate la chiave mettete in moto l'auto questa spia lampeggia per alcuni secondi e dopo sparisce se la spia si spegne dopo alcuni secondi va tutto bene significa che l'airbag è azionato e quindi non ci sono problemi nel caso la spia rimane fissa vuol dire che l'airbag non è presente quindi non è connesso alla nostra panda quindi controllate sempre che la spia si spenga se in caso non lo fa dovete far controllare l'airbag bene cari iscritti siamo giunti alla fine di questo video dedicato alla panda seconda serie panda 169 questo è il modulo airbag lato passeggero vi ho mostrato come smontarlo spero che il video vi sia piaciuto un bel like a questo tutorial e ovviamente iscrivetevi al mio canale e voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti quelli che si sono iscritti al canale di tenore informatico siamo arrivati sopra i 60.000 iscritti veramente un grazie a tutti voi e noi ci vediamo alla prossima da tenore informatico ciao a tutti